La fontana del Nettuno poggia su una base modellata da Tommaso Laureti e fa da fulcro visivo alla piazza che ne prende il nome, nata come spazio di transizione verso piazza maggiore. Tutti a Bologna chiamano familiarmente il gigante il capolavoro in bronzo che la domina. È appunto Nettuno, opera del fiammingo Jean Boulogne de Douai, passato alla storia dell'arte come Jean Bologna. Rappresentato con il tridente nella mano destra e la sinistra tesa nel gesto di placare la furia delle acque, il dio del mare ha una prestanza muscolare e virile che risultò perturbante per molti dei contemporanei. I benpensanti lo trovarono irriverente e la chiesa addirittura indecente, al punto da forzare l'autore a modificare l'inclinazione della gamba destra per tentare di dissimulare tanta esuberante e monumentale nudità. Un'imposizione che i sostenitori considerarono la stregua di una castrazione artistica. Il Jean Bologna realizzò l'opera tra il 1563 e il 1566, dopo la mancata committenza per la fontana di Piazza Signoria a Firenze, e la completò alla base con quattro angeli zampillanti, emblema dei venti, quattro putti con delfini e quattro voluttuose sirene, simbolo dei continenti, raffigurate nel gesto di spremersi i seni dai quali sgorga acqua anziché il latte.